E' stata annunciata la versione 5 di MidJourney, uno dei migliori software di intelligenza artificiale generativa Text2Image. Io l'ho testato a fondo per una settimana e oggi vediamo quali sono le novità più interessanti. La settimana scorsa è stata annunciata la versione 5 di MidJourney, uno dei più interessanti software di intelligenza artificiale generativa che produce immagini da testo, di cui ti ho già parlato in una videoguida precedente che trovi sul mio canale. Oggi invece ti voglio portare nella versione 5, una versione che è ancora in fase alfa, però è disponibile per chi ha comprato un abbonamento anche di base a MidJourney. Quello che va fatto in questo caso è di attivare la funzione che non è ancora attiva di default. Basta semplicemente andare nei settings, quindi slash settings e selezionare la versione 5 di MidJourney oppure prompt per prompt aggiungere ad ogni prompt trattino trattino V spazio 5. Ma quali sono le novità maggiori di questa nuova release? La novità più dirompente è sicuramente il fatto che le immagini che si ottengono con la versione 5 sono immagini di qualità fotografica, mentre nelle versioni precedenti si ottenevano tipicamente delle immagini che erano più delle illustrazioni che fotografie. Oggi invece con questa versione c'è davvero un salto di qualità. Abbiamo delle immagini molto simili a delle fotografie con una gamma dinamica anche molto più ampia rispetto al passato. Vediamo alcuni esempi. Questo è il lago di Brais fatto con MidJourney 4, uno stile molto enfatico. Invece quest'altra è fatta con MidJourney 5, sicuramente uno stile molto più realistico e fotografico. Questo è il prompt di una ragazza che indossa un visore per la realtà virtuale nel futuro con MidJourney 4 e poi la versione 5 con una immagine sicuramente più fotorealistica, seppure la realizzazione del visore non sia così perfetta. Qui avevo chiesto l'immagine di due modelle con i capelli rosa e con i capelli neri e con uno sfondo di alberi di ciliegio. L'immagine della versione 4 è sicuramente più cartoon, più illustrata, mentre l'altra nella versione 5 è molto più realistica, quasi da copertina di un giornale di moda. La seconda grande novità di questa versione è che lo stile di prompting è cambiato. Grazie a un potenziamento delle capacità di Natural Language Processing, il sistema oggi è in grado di capire meglio cosa vogliamo da lui. Quindi è importante scrivere dei prompt molto descrittivi, prosaici e ricchi di particolari. In passato invece usavamo delle sequenze di keyword, ecco oggi quelle sequenze di keyword in questa nuova versione ci fanno ottenere dei risultati peggiori rispetto a una descrizione più ricca. Ecco perché il mio consiglio è anche quello di utilizzare in accoppiata un sistema come GPT o chat GPT o BARD di Google per generare un prompt ricco di particolari da dare in pasto a un sistema come Mid Journey. Allora proviamo ad utilizzare un classico prompt da Mid Journey 4, quindi una sequenza di keyword come model, rococo style haute couture, flowers, fotorealistic e fashion photography. L'essenziale per ottenere quattro immagini diciamo interessanti, fotografiche con Mid Journey 4. Ed in effetti otteniamo queste quattro immagini che sono comunque di un ottimo livello. Ora proviamo ad espandere questa lista di keyword con informazioni più dettagliate sulla fotografia, quindi sul soggetto, come vestito, a cosa si ispirano i suoi vestiti, il background, sugli effetti che vogliamo ottenere e sui parametri. Quindi uno stile di ritratto fine art editoriale e di fashion photography. A questo punto quello che otteniamo sono delle immagini molto più ricche di dettagli, oltre che ad essere anche più realistiche, più aderenti all'immagine di fotografia fashion che in questi anni abbiamo apprezzato nelle riviste di moda. I dettagli che si riescono ad ottenere con la versione 5 sono davvero straordinari, guarda per esempio la capacità di riuscire a riprodurre la pupilla e il riflesso negli occhi o anche la texture delle labbra. Ho ancora la capacità di riprodurre la qualità sartoriale dell'abito e anche l'effetto bokeh, lo sfocato che simula la profondità di campo che è tipico delle macchine fotografiche e degli obiettivi di fascia alta. La terza novità è che l'upscaling è diventato molto più rapido. Se in passato per ottenere l'ingrandimento di un'immagine dovevamo aspettare del tempo dopo aver cliccato il tasto U che indicava la funzione di upscaling di una delle quattro immagini risultante dal nostro prompt, oggi invece dopo aver cliccato la U otteniamo immediatamente quell'immagine proprio perché già nella fase di generazione delle quattro immagini le immagini arrivano direttamente in una dimensione elevata che nel caso di immagini quadrate è di 1024x1024. L'ultima novità di Midgiorray 5 è che è stato aggiunto il supporto, anche se sperimentale, ad alcuni parametri particolari. Per esempio il primo parametro aggiornato è Tile. Tile-tile permette di creare immagini che possono essere collegate tra di loro come delle piastrelle, utili per coloro che producono texture per superfici 3D di oggetti digitali. Il secondo parametro che è stato migliorato è quello dell'aspect ratio che si attiva con trattino trattino AR. Ora è possibile scegliere tra rapporti anche più grandi di 2 a 1, per esempio rapporti particolari come 1 a 10 ed ottenere immagini lunghissime di un'altezza sproporzionata rispetto alla larghezza che si possono prestare a particolari utilizzi creativi. Il terzo parametro che è stato potenziato è quello relativo al peso che si vuole dare ad un'immagine rispetto ad un testo. Il parametro si attiva attraverso la funzione trattino trattino IW seguito da un numero che può essere 0512 a seconda del peso che vogliamo dare all'immagine referenziata rispetto al testo del prompt. Con questa funzione io posso prendere un'immagine di riferimento, per esempio questo fotogramma da No Country for Old Men, caricarla e attribuire un peso a quell'immagine rispetto a un prompt che in questo caso è un uomo che fuma di notte ed ottenere un'immagine che ha delle similarità più o meno pesanti con quella di riferimento.